Buonasera a tutti quanti benvenuti a questo aggiornamento su bitcoin è un po' che non lo faccio ricomincerò a fare un'analisi settimanale dettagliata su bitcoin time frame h4 ovviamente analisi ciclica e analisi di prezzo quindi uniamo i due fattori tempo e prezzo onda sinusoidale questa che vedete magenta formata dai cicli da 40 settimane a 20 settimane 80 giorni 40 giorni e 20 giorni con una varianza del 50 per cento quindi cosa vuol dire vuol dire che diamo modo al mercato in base alla sua volatilità aumento o diminuzione della volatilità diamo modo appunto all'analisi ciclica quindi all'algoritmo di andare ad adattarsi ok in funzione della volatilità cosa vuol dire più la volatilità è alta e maggiore è la dilatazione di un ciclo quindi la varianza è necessaria cosa vuol dire supponiamo che un ciclo duri 100 giorni per fare un numero tondo semplice con la con la volatilità che aumenta la durata media non sarà di 100 sarà supponiamo di 120 e quando invece una volatilità in contrazione la durata media da 120 passerà sono esempi che sto facendo a 80 e via discorrendo questo valore impostato al 50 per cento quindi vuol dire che un ciclo da 20 giorni ad esempio che misura 120 candele potrà estendersi di più o meno 60 giorni ovviamente sarà molto difficile avere un ciclo a 120 giorni che durerà 60 però come puoi vedere la durata media in questo caso è di 103 giorni vado a mettere un attimo indicatore sull'automatico automatico vedi che ha poca proiezione nel futuro per questo che sono andato inserire una data manuale come puoi vedere cambia veramente di poco l'analisi cambia assolutamente un po di ampiezza cioè di altezza vado ad impostare un dato del 2023 che nel più o meno ho preso chiaramente direttamente dall'indicatore quindi da un minimo importante dell'indicatore ok veniamo noi che cosa ci aspetta è evidente che siamo su una fase di picco che in questo caso la sommatoria di tutti i cicli ci dice che dovremmo potremmo avere una un movimento ribassista chiaramente questo è un minimo proiettato da e poi valutare in automatico con la varianza quindi va sempre preso con e come c'è a titolo informativo un minimo e anche titolo informativo un massimo vuol dire che poi arrivati più o meno intorno a questa data quindi parliamo del 12 di ottobre intorno alle 15 anzi qui alle 18 perché la piattaforma due ore indietro dovremmo iniziare ad attenzionare se qualcosa sta per capi sta capitando quindi un segnale di possibile inversione o di rallentamento da parte del prezzo stessa cosa vale per questo picco piccolo vediamo è previsto più o meno intorno al 30 settembre intorno alle 22 ok ed è evidente che quindi siamo già praticamente arrivati in una zona di possibile ribasso qua entra chiaramente in gioco che cosa entra in gioco l'analisi del prezzo quindi andiamo a valutare da un punto di vista del prezzo se ci sono dei segnali se ci sono dei livelli che possono darci una conferma o meno di una possibile fase di ribasso e come andiamo a definire ciò con una price action ovviamente approfondita in questo caso lo vediamo abbiamo avuto il prezzo che ha continuato e sta continuando a rompere massimi su massimi quindi rottura di un massimo rottura di un massimo che abbiamo avuto la rottura di massimo più importante quindi ci sta ancora confermando ovviamente una fase di rialzo però è evidente che siamo arrivati dove siamo arrivati su un livello di resistenza davvero molto importante che è tutta questa zona io considero sempre molto importante queste zone di congestione congestione uguale alto volume in questo caso vediamo che i venditori hanno avuto sopravvento su gli eventuali compratori che qui hanno provato a fermare il prezzo e quindi ci possiamo aspettare che cosa che nella stessa zona ci sia una reazione è un tentativo da parte dei venditori di confermare la volontà di scendere chiaramente dobbiamo attendere che ciò si verifichi con appunto con la price action abbiamo due modi o scendiamo ad esempio su un h1 qui siamo su un h4 quindi in scendiamo su un h1 e andiamo a cercare una rottura di struttura ok puliamo a scendere vediamo se abbiamo qualche informazione in merito ok innanzitutto vediamo che qui abbiamo già qualche informazione in più andando anche soltanto a togliere in questo caso l'analisi ciclo quindi lavorando solo con il prezzo tanto abbiamo visto che su un h4 siamo vicini a una fase di ribasso poi iniziamo ad avere delle informazioni diverse quali sono le informazioni diverse qui abbiamo avuto ok una rottura quindi il mercato è andato a rompere il massimo quindi ha confermato una volontà di poter uscire e in realtà questo poteva anche essere già un segnale d'ingresso perché su questo piccolo ultimo swing per meno qua siamo ben circa all'incirca su 61,8 quindi diventa un ritracciamento tale da poter essere lavorato a rialzo però sappiamo che sul time frame superiore abbiamo già una fase ribassista che sta iniziando a venire cioè a formarsi quindi un long non andiamo a prendere più perché statisticamente non ci siamo in più siamo su un livello di resistenza importante primo campanello d'allarme questo picco che ovviamente lo vediamo è stato inferiore rispetto al picco precedente oppure a questo massimo che è stato inferiore dal massimo precedente e qua iniziamo già anche avere un primo tentativo di rottura di questo minimo questo minimo è importante perché perché se facciamo un ipotetico disegno in questo modo ok è un minimo che poteva dare una continuazione al rialzo da parte del mercato però vediamo che in realtà qui il mercato sta un po' affaticando quindi quale sarà un nostro segnale d'ingresso beh molto facile sarà ovviamente una conferma di un avvenuto cambio di struttura è scomparso ecco qua un avvenuto cambio di struttura quindi dovremmo attendere che il prezzo vada a fare una cosa del genere quindi qui adesso abbiamo tutta questa zona di congestione noi andremo ad attendere né più né meno che una rottura un ritest ovviamente del livello quindi che andrà a confermare la fase di ribasso tra l'altro una fase di rialzo che verrà anche confermata termina come terminata dalla rottura di questa 39 e quindi qui potremmo direi in maniera abbastanza serena iniziare a cercare dei ribassi in realtà già in questa zona potremmo iniziare a cercare dei ribassi perché se guardiamo qui abbiamo già avuto una rottura ok di quest'area quindi conferma il possibile ribasso però dal mio punto di vista saremo molto più sicuri se il mercato andrà a rompere quest'area di congestione andrà a ritracciare e poi via per un possibile una possibile continuazione ribassista del mercato con ovviamente primo target utile sarà il minimo grossomodo l'area di minimo ok che vediamo qua quindi di tutto questo swing rialzista che il mercato potrebbe andare a recuperare e quindi potremmo cercare una chiusura delle nostre eventuali operazioni ribassiste grossomodo in area andiamo a levare questo grossomodo in area 63 mila e 86 quindi ancora un attimo di pazienza attendiamo la rottura dei minimi come sempre se ti è piaciuta l'analisi ti chiedi di mettere un like di iscriverti al mio canale youtube e ti invito anche a visitare il mio sito tradingpertutti.com troverai tutto sotto in descrizione anche l'opportunità di iscriverti a uno o più dei miei servizi il servizio dell'indicatore volta in cui ti permetterà di poter lavorare con i miei strumenti e anche di partecipare agli eventi live riservati a chi ha l'indicatore e poi il servizio di segnali intraday o multiday qualora tu sia interessato a segnali operativi con questo direi che è tutto ti auguro una buona serata ciao ciao